Si è tenuta questa mattina presso l'assessorato regionale alla sanità di Pescara una riunione per fare il punto della situazione dopo l'unificazione presa in carico da parte dei presidi sanitari dei positivi al covid in base alla nuova circolare inviata dal Ministero della Salute che stabilisce nuove norme di gestione. L'obiettivo prioritario importante della nostra iniziativa si concentra sia sull'ambito ospedaliero e quindi con l'eventuale rimodulazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva così come abbiamo fatto nelle altre fasi della pandemia e l'istituzione di aree proprio grigie per la gestione dei pazienti ricoverati per le altre patologie ma risultate purtroppo positive al covid. E' fondamentale adottare soluzioni che garantiscano l'attività chirurgica anche quelle in elezione perché come voi sapete durante la pandemia durante la fase acuta del covid abbiamo purtroppo tralasciato questo tipo di attività. Previsto dunque un nuovo modello di assistenza territoriale per i malati sia in ospedale che a domicilio previsto anche un numero di telefono unico per le quattro ASL abruzzesi. Parallelamente procederemo ad un nuovo modello di assistenza territoriale che è fondamentale ed è indispensabile proprio per evitare gli accessi in proprio e pronto soccorso degli ospedali. ricoveri non necessari e garantire le cure domiciliari ai pazienti asintomatici e con sintomi lievi. Sarà istituito un numero unico in ciascuna ALS attivo 24 ore a disposizione dei medici di medicina generale e contattabile solo da loro. Al termine di questo percorso si deciderà se il paziente debba essere ricoverato oppure dovrà essere rimandato al proprio domicilio, alla propria casa dove sarà seguito dal proprio medico di famiglia.